Gli indizi su social Ueddi, Nicolò Brigante pensa ancora a Marta Pasqualato? Gli indizi su social Uomini e donne continua ad appassionare i telespettatori da casa con nuove storie damore. A tal proposito, nei giorni scorsi, abbiamo assistito ad una nuova scelta, Nicolò Brigante, dopo mesi di indecisioni, ha deciso di uscire fuori dagli studi di Uomini e Donne insieme a Virginia Stabloom. Una decisione inaspettata per tutti, visto che la rivale Marta Pasqualato sembrava essere la preferita del tronista siciliano. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nelle ultime ore sui social e cosa ha fatto indispettire molti fan del programma di Canale 5. Nicolò Brigante torna sui social e pubblica una foto con lelastico di Marta Pasqualato. Nicolò Brigante, video, da mesi, mancava sui social, durante la partecipazione a Uomini e Donne infatti ai tronisti è vietato usare i social. . A pochi giorni dalla sua scelta il tronista è tornato a salutare tutti i suoi follower. . Ibec, questa la didascalia presente nella prima foto pubblicata da Brigante dopo la sua scelta. . Nella foto poi c'è un dettaglio che è stato notato da molti utenti del web. . Nicolò Brigante infatti nella foto sembra indossare lelastico che gli è stato regalato da Marta Pasqualato durante la loro prima esterna. . Ecco il post Instagram dell'extronista. . Secondo alcuni comunque potrebbe essere una foto vecchia e Brigante non ha fatto caso a quellelastico. . C'è però un altro indizio a insospettire i fan. Andiamo a scoprire quale. . Nicolò Brigante segue sui social Virginia Stablum e Marta Pasqualato. . Nicolò Brigante inoltre ha deciso di seguire sui social non solo la neo fidanzata Virginia Stablum, ma anche la sua ex corteggiatrice Marta Pasqualato. . Proprio quest'ultima, nelle ultime ore, ha pubblicato molti post malinconici, forse proprio perché comincia a sentire la mancanza di Nicolò. . L'extronista e la neo fidanzata Virginia in queste non sono insieme, lui ieri sera era a Tormina mentre lei era in discoteca con le amiche. . 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